Sono ciccine di un perignonno, tengo rotto per le rindecirelle, tengo proprio i vittabulli che hanno pigliato il treno e mi stanno facendo partecirelle, stiamo facendo partecirelle di vittabulli perché stai sfruttando ancora gli amici e io quando dico i vittabulli sono rosa che non mi hanno fatto i vittabulli sono rosa stamattina, stamattina la moglie mi ha detto venga ma fammi fare l'albero di Natale, ah città e quale è il problema? Adesso mi chiesto e credo essi mi chiesto a cattarlo dall'albero di Natale perchè in dispera stanno, stiamo dicendo che stiamo come sono arrivato a toccare l'albero su Braccia compagni, ammo vedi l'albero cattivo e noi ha detto che lo volete l'albero ecologico, compagni e caggiava questo ecologico, caggiava la marmitta catalitica ha detto ma perchè lo dovete addobbare? ma c'è il dubbio che ha, compagni eccomi la dubbio che ha sotto l'albero sempre a portafogli indoletti, no? ha detto si ma se volete l'albero alla moto quest'anno ci vogliono le palle quadrate e città i compagni che è in ottagonale squadrato con i flecchi, anche in Madrid pure i pisellini e ci non mettono i pisellini e vado un po' canazzoi ma che stai avendo? amante dell'albero con lei, ah! un colpo di lutto in dentro l'occhio è partito ma che roba? che faccio picciare tutta la faccia come un albero di Natale e la roba va giù ma mettici pure il regalo sotto la stessa regalo che avete usciate fuori, esci esci